Viva il cambiamento e questo lo sa bene la Polizia di Stato che in questi ultimi 40 anni ne ha fatti di cambiamenti e proprio la Polizia di Stato anche quest'anno propone un'iniziativa benefica fantastica insieme all'Unicef e al piano Marco Valerio per i figli disabili dei poliziotti se volete partecipare è molto semplice basta comprare un fantastico calendario calendario della Polizia di Stato quindi hai io a comprare il calendario questo non è un suggerimento è un ordine come la tradizione i proventi della vendita osperranno un progetto unice che quest'anno è rivolto ai minori che a causa dell'emergenza da coronavirus hanno subito dei gravi disagi quindi aiutaci anche tu facciamo squadra tutti assieme è un momento in cui tutti possiamo fare la differenza aiutaci compriamo il calendario della Polizia di Stato questo calendario dovete comprare perché aiuterà molti bambini che hanno bisogno ricordate aiutaci comprare il calendario forza aiutaci non ditelo a nessuno ma noi a Scraffingio abbiamo già comprato il calendario della Polizia di Stato 8 anni i proventi del suo calendario devono andare all'Unicef per tutti quei bambini che hanno avuto problemi a causa del covid e ai poliziotti che hanno figli con disabilità e da Scraffingio comprate il calendario della Polizia di Stato aiutaci comprate il calendario del 23 centenario dai quattro buoni e tutto arrivederci al 2021 ciao